Luci e ombre sulle liberalizzazioni nel settore commercio per la CGL di Ragusa bisogna non abbassare la guardia sugli orari di apertura dei negozi che oltre alla totalità delle domeniche in calendario 2012 resteranno aperti anche durante i festivi che non cadono di domenica e nel periodo estivo, compreso il ferragosto, che notoriamente vede una città deserta o quasi. Ciò che accadrà in pratica tra poche settimane è, denuncia il sindacato, che inderoga qualsiasi normativa vigente inclusa quella che ripristina le scadenze e le feste laiche che cadono nei giorni feriali anche il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno i lavoratori saranno costretti a sobbarcarsi una giornata in più di attività questo si verificherà alle masserie eppure all'ipercop, qui escluso il 1 maggio. Ad una lettura attenta del calendario, in pratica, la chiusura è prevista solo a Capodanno, Natale e Pasqua la CGL sottolinea che non sempre le regole che prevedono il rispetto del contratto nazionale di lavoro e una turnazione dei festivi vengono rispettate inoltre, aggiunge il sindacato, insistere sulle aperture per i festivi non domenicali, compresa anche Pasquetta provoca disagi, problemi e danni alle famiglie, impedite a trascorrere in serenità e unità le tradizionali ricorrenze per questo la CGL richiama quanti preposti alla questione delle liberalizzazioni delle aperture ad una più incisiva e rispettosa vigilanza, rispettosa dei lavoratori e più sostenibile per tutti quindi